Appuntato, appuntato, fatemi gli auguri. Ah sì, e perché glielo fai gli auguri? Sto per diventare nonno un'altra volta. Auguri! Paschio femmine? Femmine, una bella femminuccia. Però sono un po' preoccupato per mia figlia. Perché? Ho parlato con il medico e mi ha detto che per avere un parto tranquillo, senza rischi, bisogna andare a Cesareo. E vabbè, che problemi ci stanno? Io andrei anche a 2.000, 3.000 km, ma non ho capito questo Cesareo dove si trova. Conoscete questa località?